A parte il tempo, sui giornali oggi sono apparse, anche ieri, delle indicazioni che ci sarebbero problemi tra gli organizzatori, l'ACN e l'ACEA, lei cosa ne pensa? No, faccio il sindaco di Napoli, non sono un organizzatore. E' nella ACN? Sì, vabbè, ma ci sono i tecnici che lavorano su questo. Vediamoci l'America Scalp. Quindi lei si dichiara soddisfatto di questa prima esperienza? Più del previsto, molto più del previsto considerando il tempo che avevamo a disposizione. Ma io sono contento di come hanno risposto i cittadini. L'evento è un evento sportivo, immagino come altri, bello, qua con la particolarità di farlo nella città. Io sono contentissimo della risposta dei miei concittadini con il lungomare liberato, perché l'America Scalp è venuta, noi siamo contenti, ma andrà via. Quel lungomare rimarrà e ce lo teneremo ben stretto così. Chiedete qualcosa in più in vista dell'anno prossimo. Ma Napoli può, deve e chiederà. Perché questo non è solo un evento che ha portato bene alla città, è un evento che ha portato bene anche l'America Scalp. Queste immagini dei catamarani in una delle più belle città del mondo, uno dei più bei golfi con mezzo milione di persone il giorno di Pasquetta, sono immagini che stanno girando dall'Australia all'Europa, tutti i continenti, quindi stiamo già lavorando. Poi io pure sto facendo parecchi incontri e devo dire che sto avendo un riscontro molto positivo, ne ho fatti ieri alcuni, domani ne farò altri al Consolato americano. Insomma, sono molto soddisfatti finora del bilancio. Ti ho detto che c'era un po' la mancanza di qualche alto dirigente di ACEA qui con cui avere un'interlocuzione. Poi voi lo avrete nelle prossime settimane? Ma lì abbiamo, poi alcune cose le cura soprattutto il presidente di ACN, Paolo Graziano. Io personalmente ho fatto diversi incontri, altri li ho in programma domani mattina. Poi non finisce qua l'America Scalp. Questa è la settimana poi dell'evento, dei catamarani. Poi gli incontri, diciamo, per quanto riguarda l'organizzazione di altre cose, si possono fare da qui sino a maggio prossimo. Abbiamo un anno, anche sotto il profilo delle sponsorizzazioni, ci sono contatti importanti, iniziative che si sono proposte, altre che ne abbiamo proposte noi. Poi insomma i risultati verranno nel momento, e le comunicazioni avverranno nel momento in cui gli affari si concludono.